Nel corso di questi ultimi decenni sono stati condotti numerosi studi clinici randomizzati e controllati con placebo dove si associava il riso rosso fermentato ad altre sostanze potenzialmente utili per ridurre ulteriormente il colesterolo e i trigliceridi. Tra le associazioni più studiate ci tengo a ricordare quella a base di riso rosso fermentato 3 mg di monacolina K più policosanoli 10 mg più berberina 500 mg. Una meta analisi di 14 studi clinici randomizzati che includevano 3159 individui ha dimostrato che questo tipo di associazione è ben tollerata ed è capace di ridurre il colesterolo LDL, la glicemia e i trigliceridi anche nel lungo periodo. Un'altra associazione interessante è quella a base di riso rosso fermentato e fitosteroli. L'utilizzo combinato di 1200 mg di riso rosso fermentato, qui non è stato identificato il tenore di monacolina K, insieme a 1250 mg di fitosteroli al giorno ha ridotto in 18 pazienti il colesterolo LDL di un 33% dopo 6 settimane di utilizzo. Un altro studio clinico randomizzato e controllato con placebo e condotto su 90 pazienti ha confermato che questa associazione è capace di ridurre del 27% il colesterolo LDL e del 19% l'apolipoproteina di tipo B. Un'altra associazione interessante è quella a base di riso rosso fermentato 200 mg contenenti 10 mg di monacolina K, estratto di carciofo 500 mg ed estratto di banana 50 mg. Uno studio clinico condotto su 30 pazienti della durata di 6 settimane ha dimostrato che questa associazione è capace di ridurre il colesterolo LDL di circa un 18% e migliorare gli indici delle transaminasi e della proteina ciriattiva ad alta sensibilità. Anche l'associazione tra riso rosso fermentato, policosanolo e silimarina ha dato degli ottimi risultati. In particolare due studi clinici condotti su 214 pazienti hanno dimostrato che questa associazione è efficace per ridurre il valore del colesterolo LDL di circa un 23% e l'indice della proteina ciriattiva ad alta sensibilità migliorando in modo statisticamente significativo anche la funzionalità endoteliale. Un'altra associazione nutrizionale molto interessante è quella a base di riso rosso fermentato e omega 3. 107 pazienti affetti da ipercolesterolemia poligenica e sindrome metabolica sono stati trattati con questa associazione per 8 settimane. I risultati mostrano una riduzione del colesterolo LDL di un 22%, di un 9% dei trigliceridi e un aumento del colesterolo HDL di un 1,5%. Voglio infine ricordare, pur non essendoci studi clinici degni di nota, che esistono numerose altre associazioni nutrizionali che possono favorire l'attività del riso rosso fermentato. Tra queste voglio ricordarne tre, quella a base di estratto di olivo, di curcumina e di coenzima Q10. Con questo ti ringrazio, ti invito come sempre a lasciare un like e iscriverti al canale e fammi sapere nei commenti se anche tu stai utilizzando un'integratura a base di riso rosso fermentato e quali risultati stai ottenendo. Grazie. 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 Grazie.